Oroscopo del giorno, mercoledì 23 marzo 2022 Ariete Amore, questa sarà una bella giornata con delle stelle favorevoli. Per i single in particolar modo potrebbe essere un giorno molto fortunato. Potrebbe arrivare una nuova conoscenza o una nuova emozione. Lavoro, una giornata fortunata e interessante anche sul posto di lavoro. Un bel mercoledì per voi. Toro Amore, dopo aver sopportato l'opposizione della luna finalmente potrebbe tornare qualche miglioramento nei rapporti. Vi sentirete sereni e questo potrebbe aiutare molto da questo punto di vista. Lavoro, il recupero ci sarà, ma le vere buone notizie arriveranno soltanto tra un paio di giorni. Abbiate ancora un po' di pazienza. Gemelli Amore, venere sarà favorevole. Questa sarà una giornata abbastanza tranquilla, ma il meglio deve ancora venire. Aspettatevi delle cose con il vostro partner, ma anche con una persona nuova se siete single. Lavoro, le stelle potrebbero portare delle ottime novità dal punto di vista degli impegni professionali. Forza con il lavoro. Cancro Amore Per i sentimenti questa sarà una giornata abbastanza serena e senza grosse novità. Per le relazioni d'amore o per i quali liberi non sarà un mercoledì di marzo troppo entusiasmante, ma non sarà nemmeno così male. Lavoro Mercurio vi sosterrà durante la nuova giornata di lavoro. Bene così, potrete impegnarvi a dovere. Leone Amore Genere sarà in opposizione pure oggi e ormai avrete capito che per l'amore non sarà un periodo semplice. Dovrete cercare di avere pazienza fino a che non arriveranno delle emozioni davvero positive. Potrebbe volerci del tempo. Lavoro Mercurio sarà dalla vostra parte, ma attenzione a Marte che inizierà a complicare un po' gli affari. Vergine Amore Questo mercoledì di marzo sarà un giorno difficile per via dell'opposizione della luna. Potreste essere abbastanza nervosi oggi e quindi con il partner potrebbero esserci delle discussioni o delle difficoltà di coppia. Lavoro Possibile il nervosismo anche sul posto di lavoro. Sarebbe proprio il caso di stare attenti per non avere conseguenze maggiori. Bilancia Amore Questa dovrebbe essere una giornata buona, anche perché la luna sarà in posizione più che favorevole. Vi converrà a approfittarne per godervi in tutta serenità il rapporto d'amore o per fare un nuovo incontro. Lavoro Sempre la luna potrebbe portare delle novità decisamente buone e importanti. Non perdete le nuove occasioni professionali. Scorpione Amore Occhio a questo mercoledì del mese, perché purtroppo potrebbe essere particolarmente nervoso. La luna infatti sarà in posizione negativa e contraria e non aiuta per niente alla situazione con i rapporti personali. Lavoro Più tranquillo l'ambito professionale, tant'è che nei prossimi giorni potrebbe persino arrivare una buona nuova per voi e per il vostro impiego. Sagittario Amore Sarà un mercoledì del mese con la luna in posizione buona. Sarà in congiunzione e favorirà dei rapporti sereni. Questo varrà sia per i cuori liberi che per chi è già impegnato in una relazione d'amore. Lavoro Luna che vi aiuterà pure sul posto di lavoro e infatti potrebbe essere un giorno piuttosto fortunato, con una possibile nuova opportunità. Capricorno Amore Non sarà un momento eccezionale, ma comunque potrebbe essere un mercoledì speciale, soprattutto perché ha una persona speciale al proprio fianco. Bene così Lavoro Mercurio sarà in buona posizione, ma le vere novità arriveranno solo nei prossimi giorni. Abbiate un po' di pazienza. Acquario Amore Sempre bene per l'amore, con le venele favorevole. Le novità potrebbero arrivare soprattutto per i single. Aspettatevi qualche novità, ma soprattutto qualche incontro interessante da poter fare. Lavoro E piano piano potrebbero arrivare delle novità pure sul posto di lavoro. In effetti le stelle lo permetteranno. Pesci Amore Questo sarà un giorno abbastanza difficile, perché le stelle potrebbero mettervi in difficoltà. Andateci piano per questa giornata, ma anche per la prossima. Potrebbero esserci degli intoppi e dei problemi da dover risolvere. Lavoro Sarà un mercoledì no anche per il lavoro. Attenzione ad alcune situazioni che potrebbero presentarsi. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti. Sarà un mercoledì. Acce